Ciao, sono Lorenza e faccio parte di Manticoro Autoproduzioni. Manticoro Autoproduzioni è una realtà nata nel 2012 dal desiderio di alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di mettersi in gioco e creare le proprie storie a fumetti. Noi produciamo, disegniamo e stampiamo degli albi che vendiamo poi nelle fiere in tutta Italia e tra le altre cose produciamo anche delle spillette molto simpatiche e ironiche che usiamo per sostenerci nelle spese di stampa. I vantaggi dell'autoproduzione sono molteplici, ovvero che ti permette di fare pratica con l'ambito del fumetto o l'ambito editoriale a tutto tondo, perché tu non ti ritrovi solo a disegnare una storia a fumetti ma a pensare un libro dall'inizio alla fine. Poi nel nostro caso Manticora ci tiene che i volumi che stampiamo siano sempre di una qualità comunque professionale. Noi tutti mettiamo la quota iniziale che serve per la produzione dell'albo, ci troviamo regolarmente in riunione in cui stabiliamo un tema del nuovo fumetto che andremo a fare, ci suddividiamo le pagine, iniziamo a lavorare agli storyboard, a disegnare attivamente la storia, dopodiché impaginiamo il fumetto e lo mandiamo in stampa. Noi preferiamo mandare tramite le tipografie online, dopodiché una volta che riceviamo a casa i volumi provvediamo a fare un adeguato battaggio pubblicitario sul web, a metterlo sul nostro shop online e a partecipare alle varie fiere di fumetto come Luca Comics o il Fruit di Bologna e portare le nostre pubblicazioni. Il nostro ultimo fumetto è 2053 le nuove acque, che è una storia ambientata in un mondo post-apocalittico dove l'umanità cerca di sopravvivere in ogni modo. Se volete averlo vi consiglio di venirci a trovare al Fruit 2018.